Tuo marito lo sai che sei qui? No. Perché sei venuta? Perché avevo una gran voglia di rivederti. Non devi tornare, Michelle. Sei soddisfatto del tuo avvocato? Non hai importanza. Non te ne dare. Le dica di lasciar perdere. Bisogna che lei ci aiuti di più. Dica a Michelle di dimenticarmi. Io mi preoccupo più della sua difesa, Julian, che della vita privata di Michelle. Dovremmo esaminare tutti i particolari della sera dell'omicidio. Una cameriera l'ha vista mentre cercava di salvare Leon. Quindi la polizia fa solo pressione per il caso Reimann. I giornali e la TV le stanno già facendo il processo, Julian. La polizia ha interrotto le indagini. Abbiamo bisogno di aiuto. Dei fatti che permettano di riaprire le indagini. Poi possiamo far luce su Leon e Reimann. Può essere stato il biondino. Che ne dice Julian? Il biondino è stato il biondino.